L'Italia è al centro di una sfida mondiale per arrivare nel più breve tempo possibile a un vaccino per tutta l'umanità. È molto bello che qui a Danagni venga un pezzo fondamentale della produzione di questo vaccino, sia per quanto riguarda AstraZeneca, il primo candidato su cui abbiamo sottoscritto un accordo con Francia, Germania e Olanda, e sia, notizia di oggi, per quanto riguarda Johnson & Johnson. L'Italia continua ad essere al centro della sfida per dare un vaccino a tutti noi. Grazie 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 Grazie